È la settimana del debutto. Domenica la serietana sarà di scena a Roma. Per l'esordio del campionato di massima serie, il terzo di fila nella storia della serietana, Paolo Sosa dovrà far fronte all'emergenza in difesa per l'assenza di Lovato, che si somma a quella di Daniuc. Si spera di recuperare Pirola, che contro la Ternana, domenica scorsa, ha lamentato un affaticamento muscolare di uscito dal campo all'intervallo. Se dovesse recuperare il difensore ex Monza, completerebbe la difesa con Gionber e Fazio, l'ex di turno insieme allo slovacco appunto. Da capire se sarà convocato Bron sulle fasce, agiranno Sambia e Bradaric in mezzo al campo. Maggiore potrebbe affiancare l'assenza a Kulibali. Sosa valuterà anche i nuovi arrivi e potrebbe subito avvalersi delle loro prestazioni. In avanti, Butaim dovrebbe essere sostenuto da Kandreva e Kastanas, a meno che Boulaye Dia non venga impiegato dall'inizio. Il senegalesi ha ripreso confidenza con il campo appena domica scorsa, nell'ultimo quarto d'ora della gara di Coppa Italia con la Ternana. La Roma sarà assenza di Bale e Pellegrini, ma potrà contare sui freschi arrivi di Renato Sanchez e Paredes. In attacco, Mourinho ha soluzioni obbligate con il Sharapi pronto da affiancare Belotti, sarà esso diffusinato all'Olimpico, dove nel maggio scorso la Ternana sfiorò la vittoria pareggiando per 2-2.